Sarà Davide contro Golia, la infodrive Capodorlando parte alla volta di Udine, dove se la vedrà contro la prima della classe, imbattuta tra le muramiche, reduce da due mesi e mezzo quasi perfetti, un solo scivolone nelle ultime dieci gare sul campo della penultima in classifica Biella. Per i paladini è ancora emergenza, l'infortunio alla mano di Quinellis si è aggiunto al lungo stop di Capitan Matteo Laganà e non ci saranno nemmeno coach Marco Cardani e il playmaker Andrea Traini, ultimo arrivato in casa infodrive, entrambi fermati dal Covid. Siamo in partenza per questa difficile trasferta in Terafriulana a Udine, contro quella che probabilmente è la squadra più forte del campionato o quantomeno, questo direi con certezza, oggi è la squadra che gioca meglio a palacanestro in questa due. Quindi giustamente noi siamo con un minimo di attenzione alla squadra avversaria, che è una squadra molto forte, con tanti giocatori di grande valore. E noi però siamo una squadra che ha un'anima, che ha uno spirito, che vuole portarla avanti e vuole crescere, anche in difficoltà tecnica. Non è che ci possiamo permettere di fare voglio pendarici in questo momento, di creare grandi situazioni di gioco, poiché giochiamo senza di tre playmaker, però faremo della nostra coesione, del nostro spirito di gruppo, della nostra forza fisica anche, un punto di forza. A questo dovremmo aggiungere un pizzico più di fiducia, che dobbiamo mettere di fiducia in noi stessi, nel tirare con fiducia, nel prendere i nostri tiri, nel fare le cose in cui siamo bravi a fare con grande fiducia, ma anche avere fiducia nei propri compagni e nelle loro capacità. Chiuderei dicendo quello che disse un allenatore del Padova quando giocò con la Juve, un allenatore del Padova mio concittadino, e quando gli dissero, il giornalista lo salutò dicendogli, beh che vinca il migliore, e lui rispose, ciò speriamo da no.